Piazza Duomo questa mattina all'Aquila in centro storico si è svegliata sotto la neve ma senza grandi disagi. In realtà la neve non è tantissima e non ci sono stati problemi perché il piano neve del comune dell'Aquila ha funzionato alla perfezione. Scuole chiuse oggi ma tutto sommato una situazione gestibile. La neve come ampiamente annunciato è arrivata all'Aquila senza però creare particolari problemi se non nelle frazioni più alte. Ieri sera è arrivata anche l'ordinanza di chiusura delle scuole in via precauzionale per evitare i propri problemi dell'ultimo minuto anche a causa del ghiaccio. Ma il piano neve ha funzionato, le strade sono percorribili nel capoluogo. Il comune ha una sala operativa, il piano neve sarà in vigore sino al prossimo 16 aprile. I mezzi sono in azione da ieri in città quando è iniziato a nevicare nel pomeriggio con quasi 30 uomini impiegati, 14 mezzi con lama e spargisali a disposizione degli addetti del settore opere pubbliche, oltre ai veicoli di supporto e 12 mezzi di ditte private. incaricati dal comune per agire soprattutto nelle frazioni. Il vento e la bufera in quota però non hanno permesso l'apertura della stazione scistica di Campo Imperatore che aprirà però domani, afferma l'amministratore unico Dino Pignatelli. A Campo Felice invece oggi impianti regolarmente aperti e una buona affluenza di sciatori. In centro è uno spettacolo sempre suggestivo la neve.